Il Dr. Faust di Ferruccio Busoni è la seconda opera in programma al Festival di Carnevale del Maggio Musicale Fiorentino. Andrà in scena il 7 febbraio in Sala Grande con il maestro Cornelius Meister alla guida del coro e dell'Orchestra del Maggio. La regia è firmata da David Livermore. In scena un corposo cast. Per me è la prima volta di essere a Firenze, una bellissima città, ma secondo me il Dr. Faust è un vero capolavoro. Ferruccio Busoni è uno dei più famosi pianisti, anche un compositore veramente interessante. E questo Dr. Faust non è solo un'opera lirica, è anche un oratorio, è anche un pezzo sinfonico, con una grandissima banda, con coro, solisti. Sarò molto lieto di essere qui con il Maggio Musicale. L'opera fu messa in scena per la prima volta in assoluto proprio a Firenze il 28 maggio 1942 per l'ottavo Festival del Maggio e poi una seconda volta nel 1964 come opera inaugurale del 27esimo Festival del Maggio dedicato all'espressionismo. L'opera torna quindi a 60 anni di distanza e per la prima volta nella versione con l'originale libretto in tedesco. Le altre recite sono in programma il 14 e il 21 febbraio alle 20 e l'11 febbraio alle 18. Grazie alla Fondazione Casta di Spalmio a Firenze la recita dell'11 è offerta al pubblico con uno sconto del 50%, ma c'è anche un'offerta speciale per il giorno di San Valentino, due biglietti al prezzo di uno per favorire l'ingresso in coppia.